Mondo Movilere Lecce, oggi vi presento un appartamento posto al secondo piano senza ascensore nei pressi di Piazza Mazzini, precisamente in via di Casanello al Civico 49. Siamo nell'ingresso all'abitazione che andremo a vedere e che ha l'area solare di proprietà. Siamo nel soggiorno, da questa parte c'è la camera da letto con il suo balcone su fronte strada, invece da quest'altro lato si sviluppa il resto dell'abitazione, la sala pranzo e in fondo la cucina, con la caratteristica cucina economica. Ciascun ambiente della casa è molto luminoso grazie all'affaccio esterno. L'ampia camera da letto ha il suo balcone prospicente su via di Casanello. Grazie a tutti!